Vorrei esprimere la nostra profonda indignazione come uno che ha mangiato una tonnellata e mezzo di merda per la disgustosa battuta del vicepresidente del senato Maurizio Gasparri pesante da digerire sa ha esclamato ma questo è il family day ah si? perché? non l'handicappato day anticappati? eh, handicappati l'utilizzo peraltro fuori dal tempo del termine handicappato come insulto da te non me l'aspettavo è deplorevole e schifoso certo che sono d'accordo se si tratta di aiutare gli handicappati Gasparri deve dimettersi vuole dalle mie dimissioni? dalle mie dimissioni io in quanto handicappato avrò le mie disabilità a questo punto siamo degli handicappati, lo accetto ma le assicuro che sono capace di mandare il vicepresidente del senato a fanculo no, va a fanculo a te, mammeta e Socrate